Musica Hello guys, Renderina here Benvenuti in questo nuovo video qui su Minecraft Siamo su una nuova mappa parkour Aspettate che abbassiamo un pochino la musica Come vedete ho attivi gli shader Perché ho visto il video di presentazione di questa mappa Appunto c'erano gli shader e mi è piaciuto un sacco E una cosa particolare di questa mappa parkour È che siamo di default in creativa Vi faccio vedere perché Vedete come è strutturata Perfetto, si chiama Mi sembra speed Parkour speed o cosa del genere E non ci sono scale Che significa che quando sbagliamo dobbiamo ritornare tutto da capo Ed è un casino Allora, Island Parkour Rule Gioca uno o due giocatori È uguale Il tuo record Questa mappa è stata fatta da Unbreakable Gaming Che ringraziamo È uno youtuber inglese immagino americano Puoi essere in creativa Assicuratevi di avere speed 2 Ce l'abbiamo Con il command block Grazie E divertiti su Island Parkour Sprint Parkour Perfetto Di qua divertiti È una cosa molto facile Ricordo your time Mecca io video O youtube Perfetto Allora possiamo andare a sinistra o a destra Io a sinistra vedo il portale Quindi voglio andare a sinistra Olla Micchia Con Con speed 2 È tosta eh bro Dove cavolo stiamo andando Olla No No Ecco Avete visto il perché Io adesso ma dovrei fare tutto a capo Invece la mappa prevede di essere giocata Esattamente così Come ho fatto In maniera tale da Ecco Non smorzare il gameplay Vedete Ok abbiamo fatto una scelta della ciolla Perché giustamente voi non vedrete un cazzo Con i shader nel Nel nether Grazie Mamma mia Minecraft Davvero Caricati Oh come cavolo si fa sto salto Allora Calmina Rendi Olla Olla E poi Penso di qua Esatto Mamma mia E cade nella lava Indolava Bellissima però Sta parte nella 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 Nel nether Spero che Voi vediate bene Mi sa che Non mi conviene giocare col fov così alto Lo sapete Per Aspettate Passiamo un pochino il fov Mettiamolo a 80 Perché mi sa che Per le mappe parkour Non mi conviene Distorcere un po' Quello che vedo Che Estaticamente È fichissimo Però Mi sa che Ci complica Le cose alquanto Oh salve Abbiamo qua Qua vedete sicuro Perché c'è un botto Da lava Ce vedo pure io Perfetto No 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 Questo di qua Perfetto Ok Quindi è proprio Non è previsto Fare Quella Oh mi hanno scritto Su facebook Vabbè non fa niente Non è prevista La morte in questa mappa In questa mappa È prevista Semplicemente il Corri E infatti come state vedendo Io sto cercando di fare Il meno I A parte qua Adesso Sto cercando di fare Meno Parti possibili Senza correre Che sono Da Qua non funziona L'ice block Metodo E Ok Non lo so Brothers Cosa si intende Però Vabbè Ok Ok Oh la 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 Però No Fermi tutti Fatemi Fatemi fare Il saltino Come Fammi fare Il saltino Come dico io Oh Corri Ecco niente Manco per Manco per Davvero Però Effettivamente così È comodo per me Però aspettate Poi ho tagliato La musica di minecraft Perché non ce la faccio più Per me è comodo Avere la creative Perché io posso Non tagliare Quindi Perché ogni volta Quando faccio la mappa parkour Come ben sapete Io taglio il video Riprovo Ricasco 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 Finché Non arrivo Dove cavolo Devo arrivare E invece E invece Adesso no Perché adesso Con la creative Possiamo fare una cosa Molto più Figa e veloce Ok Adesso proprio All'estremità E saltiamo Oh ma è possibile Farlo Secondo me Dobbiamo rifarlo Tutto da capo Secondo me Dobbiamo rifarlo Tutto da capo Perché Va fatto in corsa Proviamo a rifarlo In corsa Ma signore Sono proprio Un Beota Dai 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 Eh ho saltato Troppo presto Dovete sapere che sto usando Una tastiera Con i Red Micro switch E si premono subito Sti cosi Cavolo Io sono abituato Ai black Sono un casino Ok a sto punto Taglio finché Non riusciamo Ad arrivarci Perché Se no davvero Mi sembra Uno spreco di tempo Assurdo No eh No niente Però proviamo a farla Così Da dietro Facendo Il doppio salto Ecco Da Nel senso Prendere un po' di rincorsa Perché Potrebbe essere Io ho visto Che questa Oh Oh finalmente Finalmente Questo è Un blocco più indietro Rispetto C'è un blocco più avanti Rispetto alle altre Oh finalmente Ce ne possiamo andare A cavolo Però carica Non mi scattare Adesso Ci ho perso Non sapete quanto tempo Alla fine era tutto Una cosa di Oh Era tutto una cosa di Come si chiama Di Di sprint Di rincorsa Perché col ghiaccio Sapete meglio di me Che non si sprinta subito E quindi Mamma mia Randy Mamma mia Mamma mia Hola Ok 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 Ah siamo Siamo Ritornati all'inizio Non so cosa C'era scritto su quei cartelli Forse era Ma io se le leggevo Però GG per me Quindi Praticamente Questa è La fine del primo pezzo Aspettate Andiamo a controllare Perché adesso sono curioso Andiamo a vedere un attimo Cosa c'era scritto Alla fine di Di quella mappa Di quel pezzo lì Quindi aspettate E là Andiamo un attimo Vedete a che serve Anche poi la creative Che uno la fa di corsa E poi giustamente Non si rende conto Di quello che succede Ok Ah Io beat Congratulazioni Blablabla Niente Praticamente abbiamo finito Questo Questo pezzo di mappa Questo qua Che è A sinistra Adesso dobbiamo fare Quello a destra Chissà com'è quello a destra Sono Abbastanza curioso Quindi torniamo 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 in quello a destra Ci prendiamo la speed Che già abbiamo Ma ce la riprendiamo Io penso che Possiamo anche rimettere Di nuovo un attimino Aspettate Mettiamo di nuovo La Ecco L'alba Perché sennò va a finire che E Via E si parte di nuovo Adesso andiamo a destra Quindi Si va di qui Oh Yeah Ah Dai però Non mi scattare Cavolo Su 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 Bro Su Mannaggia E dai Il primo salto Fammolo fa Tranquillo Oh Ecco 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 Ho fatto Il primo Fammi fare pure il secondo Tranquillo per piacere Perché faccio movimenti strani O non prendo Quando dovrei prendere la Il salto Ecco Oh Su Ma dai Dai Ma dai Secondo me Lo shader non aiuta in realtà Perché comunque appesantisce E E appunto non aiuta Nella Uh Uh Cazzo Lava Aiuto Ok Ok Ecco Porco Cane Su 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 Ok Di qua Poi Di qua Mi sa che si va Oh Sì Di qua Sì Si deve giocare Per forza creativa Perché sennò quel pezzo Come lo fai Quindi corri 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 Perfetto Andiamo di qua Secondo me La finiamo in un solo episodio Eh brothers Non so Secondo voi Ma secondo me Sì Secondo me One episode For Randy Uh diamanti Eh magari Si trovassero così facilmente In minecraft Normale Magari Oh là Perfetto Dove cazzo Ok Dobbiamo andare di qua Ok No 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 Ritorno On the platform Ok Porca puttana Oh Eh Mmm Iniziamo eh Iniziamo Il parkour Oh Oh no 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 Nel buco Bah Dai 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 Sali 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 Questo ce lo rizziamo da capo Perché Sennò senza sprint Diventa tosto Ok 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 Oh là Fermi Fermi eh Perché qui Porco cane Qui ho un macello Qua è fatto proprio apposta Ed è fatto bene questa cosa Brothers Secondo me Della creative Dovrebbero implementarlo In più mappe Studiarle apposta Per essere giocate in creative Ma è tale che Mmm Le fai più veloci Ecco Sono più veloci Più divertenti Non Non perdi tempo Uh Non perdi tempo Nel tornare indietro Rifare 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 Anche se Comunque Oh porco Porco Cano Sbagliatissimo Dovevo andare di qua Anche se ovviamente Quello è un po' lo spirito Anche della 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 parkour map Quindi Ci sta Eh Left or right Andiamo a destra Va Perché Aia 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 Andiamo a destra Perché mi voglio complicare le cose io Wrong way Perfetto Andiamo a sinistra Tananana Tananana Di qua Spero si veda Spero si veda un sacco davvero Intanto c'è la C'è la Sono le redstone torch lamp qui Come cazzo si chiamano Oh Sì Oh Corri 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 Andiamo di qua Ok Questa Questa via è decisamente più lunga Di quell'altra Ma Noi non ci facevamo scoraggiare E Porca Puttana All'ultimo salto No dai È all'ultimo salto Sbagliamo Perfetto Abbiamo finito Due other ways Si l'abbiamo provata tutte Please Press the bottom Ok Siamo all'inizio della mappa Non so quanto è durato questo video Ma appunto In un solo video Abbiamo fatto un'intera mappa parkour Molto divertente Io secondo me Questa è più divertente Da fare in due Per vedere chi vince Prima Cioè chi arriva prima Ovviamente Quindi mi raccomando Se mai scaricatela Giocatela Con un amico Io vi lascio il download In descrizione Lasciate un mi piace Un commentino E niente Enjoy E qui è venuto con voi Da Randy E da questo Minecraft Spettacolare Con i shader È tutto Bye bye Ciao 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 Ciao